Mister Di Napoli, iniziamo la partita contro la Juve Stabia, è arrivata una sconfitta di misura, 2-1? Ma è una sconfitta che ci sta, complimenti alla Juve Stabia e a Caserta, è una sconfitta che oggi è una sconfitta mia perché probabilmente non l'ho nato bene sulla testa dei ragazzi, mi assumo tutte le responsabilità io di questa sconfitta. Cos'è mancato oggi all'Akregas? Secondo me è mancato la preparazione, la convinzione, la cattiveria agonistica delle mie azioni, erano molli e proprio nelle settimane ho lavorato male a non far capire l'importanza di questa gara quindi il responsabile sono io e mi assumo tutte le responsabilità. Ha vinto la squadra più forte oggi? Sulla squadra più forte non lo so, sono sicuro che la mia squadra oggi non era nelle giuste condizioni però dall'altra parte ci sono giocatori importanti, Paponi, Romero, giocatori importanti a squadra di categoria complimenti a loro, hanno vinto meritatamente.